...che si chiama L'Idea, interpretata dalla Sian Ballet. Grazie, ottimo. Grazie per il sostegno, siamo contenti. Grazie ragazze, fate finta di essere al Madison Square Garden e che ci sia un applauso di quelli fragorosi. Non sono pronte, quindi 3, 2, è l'ultima volta 1, musica. Voglio restare ancora con te, se adesso è la sala, mi compagno a un marco di trattata, mi segue, mi chiama. Applausi! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti